ben tornati amici con il salotto di men style stasera facciamo un bel video leggero estivo vacanziero perché si sta per partire per le vacanze e parliamo quindi di una pipa estiva la falcon credo che tanti di voi la conoscano io devo ammettere la mia ignoranza fino a poco tempo fa non ne sapevo neanche l'esistenza l'ho vista per la prima volta nel video proprio dell'amico bob che ne aveva trovato un usato in un mercatino e l'aveva fatta vedere dopodiché parlando nel nel gruppo della compagnia della forca trovai un amico appassionato Gianluca che ne decantava le lodi e quindi dietro al suo consiglio mi decise a comprarla perché comunque era una pipa che mi incuriosiva perché mi incuriosiva perché ha questa linea che francamente secondo me è un po steampunk mi ricorda quegli oggetti quegli aggeggi avvenieristici della narrativa della londra vittoriana del filone narrativo steampunk mi immagino che se lì qualcuno doveva fumare la pipa avrebbe fumato questa è una pipa che secondo me se pensiamo per quando è stata creata da un ingegnere americano nel 40 45 è effettivamente un gioiellino di tecnologia perché bisogna ammettere che è un gioiellino di tecnologia e la pipa poi non fu prodotta immediatamente chiaramente perché essendo in alluminio nel periodo della guerra in america c'era carenza di metalli a causa della guerra che venivano quasi tutti utilizzati per la produzione di armi e munizioni alla fine della guerra dopo finalmente è stata realizzata e nel solo anno 1954 ha venduto qualcosa tipo 6 milioni di esemplari ora è veramente tanta tanta roba ora so che i puristi probabilmente rabbrividiscono anche solo al fatto di chiamarla pipa però effettivamente se pensiamo che comunque ha un fornello in radica un foro d'entrata un foro d'uscita ci si fuma al tabacco è a tutti gli effetti una pipa per me è un oggetto molto carino se vedete la pipa dal punto di vista collezionistico vale la pena sicuramente acquistarla e averla nella propria collezione perché è veramente un gioiellino di tecnologia pensando poi all'epoca in cui ha visto la luce viene data in questa confezione qua particolare che ricorda quella delle macchinine in questo caso particolare qua abbiamo due teste una biglia di questa qua rodesia ne ho scelta così all'interno trovate anche i filtrini e degli scovolini che io ho già usato un paio degli scovolini in più il dépliant con tutte le forme delle varie falcon delle teste dei bocchini eccetera allora il filtrino cosa serve il filtrino serve perché la testa è svitabile e intercambiabile alla base viene inserito questo filtrino qua che che scopo ha questo filtrino qua ha semplicemente lo scopo di assorbire la condensa perché chiaramente quando il fumo bollente entra in questa camera di metallo si raffredda di colpo per incontra il metallo che freddo e crea condensa quindi per evitare la formazione di acqua ruggele tirasse acqua ruggele hanno messo giustamente alla base questo filtrino che non è altro che un pezzo di scovolino che vi assorbirà la condensa e il fumo raffrescato dal metallo salirà lungo il cannello e lo potrete assaporare un po più fresco diciamo e vale la pena allora intanto guardiamo ha il bocchino in silicone al dente è morbido è equilibrata la mia poiché questa semicurva qua è abbastanza leggera si tiene bene in bocca e quindi il bocchino si può estrarre chiaramente è un po più difficoltoso da estrarre di quelli classici perché oltre che entrare nel bordo deve anche entrare nel cannello quindi praticamente è molto preciso perché si deve infilare qua dentro e deve entrare anche lì dentro infatti vedete che c'è un po mangiato della plastica nel rimuoverlo infatti adesso entra già un po meglio ok quindi la pipa in sé è vero fuma fresca è leggera è una pipa da passeggio se vogliamo è è una pipa che si può fumare anche in un momento di distrazione diciamo magari mentre stai lavorando mentre stai facendo qualcosa durante il quale non sei concentrato sulla fumata questa pipa qua ti permette di fumare distrattamente di non concentrarti sulla fumata perché intanto anche se la stressi la radica non è di chissà qualità non si stressa più di tanto ai bordi spessi la fumata rimane comunque fresca per via dell'acciaio dell'alluminio scusate e la condensa viene assorbita dal filtrino quindi non c'è acqua rugiola quindi è una pipa sbarazzina è una pipa che ti permette di non starci a pensare troppo alla fumata leggera da passeggio la puoi anche maltrattare è comunque una pipa robusta quindi anche da portare in giro con la testa smontata te la metti in un sacchetto va in giro tranquillo quindi che dire la consiglio ni ni perché comunque la qualità della radica è quella che è sì secondo me per un neofita per iniziare lo può anche forse vagamente aiutare anche se secondo me è meglio fumare una pipa classica e correggere subito i propri errori no perché questa qua praticamente ti correggi gli errori lei quindi prima o poi dovrai passare una pipa classica quando ci passerai tornerai ad avere gli stessi problemi quindi è solo un rimandare però sicuramente se uno la intende come oggetto da collezione oltre che da pipa da fumare è un oggetto che vale la pena avere è un gioiellino che vale la pena avere in collezione particolare a me piace esteticamente se fosse costata un po meno probabilmente l'avrei consigliata proprio come acquisto anche come pipa da fumare proprio per il neofita però obiettivamente con due teste all'interno trovate anche i filtrini che non sono altro che i pezzi di scovolino e qualche scovolino che ho già usato perché l'ho già fumata costa sui 75 euro spedita quindi magari se la trovate direttamente il tabacchino la portate fuori anche con 70 65 però è già un bel prezzo se prendono già delle pippe oneste a quei prezzi lì prendi già delle volcan delle salinelli delle baroncelli cioè ne trovi di pipa quei prezzi lì quindi non so se effettivamente valga la pena è vero il mio amico Gianluca dice però porti a casa due teste come avere due pipe non è proprio così e avrei preferito una testa unica di una buona qualità allora l'avrei sicuramente consigliata così dico nì se vi piace compratela perché comunque la fumata è onesta non è eccessa ma onesta però vi permette anche di fare quelle fumate sbarazzine poco impegnative e ve la potete portare in giro senza troppi rimpianti anche perché difficilmente la romperete ecco comunque si trovano poi tutti i pezzi quindi non è che sia impossibile però sì come unica pipa probabilmente consiglierei altro io preferisco di gran lunga se dobbiamo parlare di fumata fresca a quel punto lì preferisco la mia amata pannocchia che costa un quarto è vero non ha la robustezza la resistenza di questo è chiaro è comunque una fumata non irradica è una fumata particolare però io se devo consigliare preferisco quella ecco a pari di questa probabilmente se vogliamo parlare di pipe forse è meglio acquistare una job pipe perché almeno la testa è di una discreta qualità il cannello rimane in acciaio quindi una fumata fresca stilisticamente comunque particolare carina non ha la storia di questa è però diciamo che forse qualità prezzo all'incirca siamo lì e la radica è superiore quindi la testa è superiore quindi probabilmente se dovesse acquistare preferirei una job pipe io l'ho presa proprio a livello di oggetto collezionistico mi piaceva molto e proprio perché sono un amante del genere steampunk quindi a voi le scelte il video è stato rapido non vi ho intrattenuto troppo era un po che non salutavo rametto anche se era presente mettete un like parlamento perché lui c'è sempre vi vuol bene fa parte di noi il canale dietro è nato grazie a lui se non ci fosse stato lui non sarebbe nato probabilmente e vedete voi se comprarlo meno la falcon io ve l'ho fatta vedere a me piace se vi piace compratela già luca non ti incazzare perché non ho cantato le lodi non l'ho neanche affossata dai ho fatto la via di mezzo diciamo così è carino anche logo sul bocchino del falco va bene vi saluto ci rivediamo una settimana di ferie e poi ci rincontriamo va bene grazie amici alla prossima